Buongiorno a tutti e ben ritrovati da Romano Auto. Oggi siamo in compagnia della nuova Jeep Renegade. Questa versione è la T3 Business. Rastate con noi e occhio alle immagini. Con le sue linee muscolose, che ci ricordano le vere Jeep americane, la Renegade è da sempre il fuoristrata più apprezzato, con nuovi motori e tanta tecnologia. La vera novità è proprio il motore. Parliamo infatti di un 1000 turbo benzina da ben 120 cavalli, nonostante la sua piccola cilindrata. È potente e consuma poco. La guida è alta, infatti si sta molto comodi e gli interni sono curati nei minimi dettagli. Il nuovo sistema multimediale è ricco e intuitivo, con il nuovo monitor da 8,4 pollici, Apple Car e Android Auto. Anche il baule posteriore è molto spazioso, infatti arriva a una capacità di 351 litri. Venite a provarla, siamo in via Pomigliano, Santa Anastasia, Napoli. E ricordate, Romano Auto è la scelta giusta.